Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a vedere le tre curiosità sul pianeta Mercurio. E non sono le classiche curiosità se Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, il pianeta più piccolo, no! Sono curiosità abbastanza particolari e adesso ne andiamo a vedere! 1. Mercurio ha un'ottosfera composta principalmente da ossigeno, un gas raro per un pianeta roccioso. I scienziati ritengono che questo sia dovuto alla reazione chimica tra i materiali presenti sulla superficie del pianeta e il calore estremo del Sole. 2. Il nucleo interno di Mercurio è in realtà un gigantesco cristallo di ghiaccio che riflette la luce del Sole e conferisce al pianeta un valore notturno unico. E 3. Mercurio è l'unico pianeta del Sistema Solare a possedere una unica grande montagna chiamata Mons Peak che si erge per oltre 15.000 metri sopra la superficie. E queste erano le tre curiosità strane sul pianeta Mercurio. Ci vediamo in un prossimo video!